Resta un giallo la morte di Carlo Giannini, il pizzaiolo mesagnese di 34 anni trovato morto giovedì mattina in un parco di Sheffield in Inghilterra a 250 chilometri da Londra. I genitori, il padre è un noto e stimato infermiere, sono in contatto con l'ambasciata inglese. Un fratello è partito alla volta del Regno Unito per riconoscere la salma e cercare di comprendere meglio le circostanze oscure della sua morte. Carlo si era trasferito a Sheffield per lavorare in un ristorante dopo aver aperto due anni fa in Germania una pizzeria insieme a un fratello. In passato a Mesagna aveva lavorato come operatore sanitario ma la sua passione era la cucina. La satta Yorkshire Police che ha dato notizia del ritrovamento lo ha classificato come omicidio anche se non sono chiare le modalità con cui il giovane mesagnese sarebbe stato ucciso. Si sa solo che il corpo è stato scoperto alle 5 di giovedì mattina da un passante nel Manor Fields Park fuori City Road. Pochi minuti dopo la polizia è giunta sul posto e ha transennato il parco diffondendo poi una nota con la quale chiede la collaborazione dei cittadini che avessero visto o sentito attività sospette intorno al parco tra la notte di mercoledì e l'alba di giovedì.